Alla mia maniera daowsina. La cosa soπite che si è necessario Non smettere anche le b imánica La città di B La città è la città In , no? Se ne Si è piaciocano La città con la città di B La città è la città La città è la precedente di Fla minor e e di Ciamma io ti lo mettiamo su un solo e poi ti lo mettiamo su un solo e di Fla minor di Fla minor ti lo compito e di di qui qui dentro una di di e f di il can se in è quello che ci senti. Si sono iniziato a seguire il mio piano, e se la 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 l'onction e la cosa la cosa cosa che sono in questo modo questa cosa è la cosa che ci sono spesso la cosa che ci sono e la cosa che hai detto allora la cosa che ti piace ok, la cosa che ho fatto è down, down, up, up, down ok e la cosa cosa, no? down, down, up, up, down oh oui, c'est bien, bien, mais down, down, up, up, down ok, c'est l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo ok ok, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo c'est beau, c'est pas un peu c'est laification, c'est pas un peu no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.